Vuole parlare di voi velo? Quale lingua? In inglese è meglio. In inglese è meglio. Quindi dove sei? Siamo dall'Italia, da Milano. Sì. E produciamo questo bicicletto, un bicicletto in Italia. Il bicicletto è un bicicletto elettrico e ha un motore Zeus in il bicicletto, che include batteri, sensori e motore. Quindi è molto piccolo? È tutto in un dispositivo. Qua leggera è? È quasi 17 kg. Quattro modelli? Questo modello. Questo è un po' più, perché ci sono fendoli. E questo è per le donne? Questo è per le donne. per i uomini. Il modello di uomini è chiamato la nana e il modello di uomini è chiamato il gaga. Ah, ok. Come si chiamate la tua compagnia? Barsè. Barsè. Hai detto che sei basato in quale città? Milano. Quanto? Il costo è... Questo modello è 3600 euro. 4.000 euro. Ok. Ah, grazie molto. Ok. Ok. Ok.